Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per attività di ispezione all'interno delle gallerie, fino alle 20 del 30 ottobre è chiuso il tratto compreso tra Riuveggio e Pian del Voglio nelle due direzioni. In alternativa si può percorrere la 1 variante. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico e un passaggio a livello, i treni della linea via Reggio Lucca potranno subire ritardi fino a 30 minuti. Tutti i treni coinvolti sui nostri canali social. Per quanto riguarda il traffico navale, segnaliamo che sono cancellati quest'oggi traghetti Piombino-Portoferraio delle 11 e Piombino-Cavo delle 12.20, 14.55 e 16.05. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!